Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Prima di immergerci nelle anticipazioni, desidero ricordarvi dell'iniziativa che abbiamo avviato per sollecitare Mediaset a limitare la pubblicità durante le puntate di Terra Amara. È davvero eccessivo il numero di interruzioni pubblicitarie in ogni episodio. Non credete? Facciamo sentire a Mediaset la nostra voce. Per unirti a noi in questa petizione, lascia un commento qui sotto con la parola BASTA. Più siamo numerosi, maggiore sarà la nostra voce. Al raggiungimento di 5.000 commenti e 5.000 mi piace, invieremo una richiesta formale a Mediaset, facendo presente che potremmo smettere di seguire i loro canali se la situazione non cambierà. Perciò, partecipa anche tu. Lo sai, ogni contributo conta. Mentre la notte avvolge Villa Yaman, Zuleyha combatte con il sonno, il cuore inquieto. Allo stesso tempo, Cetin e Gulten stanno impacchettando le loro cose, pronti a dire addio alla loro dimora. Nel mentre, il sorgere del sole vede Demir destarsi nel letto di Umit, con lei che lo osserva silenziosamente. La trama si fa sempre più densa, con intersezioni e scelte sentimentali che portano i personaggi verso percorsi intricati. All'interno della grande sala da pranzo di Villa Yaman, l'aria è densa di profumi aspettative. Sevda, notando l'assenza di Demir, decide di controllare la sua camera. Tuttavia, Zuleyha interviene rivelando che Demir non è rientrato la notte precedente. E proprio in quel momento, Demir fa il suo ingresso, scatenando una serie di domande da parte di Sevda. Imbarazzato, Demir risponde che ha trascorso la notte con degli amici e Zuleyha, con un sorriso malizioso, sottolinea che è tornato giusto in tempo per il pasto mattutino. Più tardi, in un momento privato, Sevda svela a Demir quanto Zuleyha fosse ansiosa e preoccupata per lui, rimanendo sveglia tutta la notte. Demir, colpito da queste parole, si rende conto dell'affetto che Zuleyha prova nei suoi confronti. La tranquillità del momento viene interrotta da Sermin, che annuncia una novità. Quella sera si terrà un'asta benefica con oggetti che un tempo appartenevano ad un car. Questo evento potrebbe rappresentare un nuovo elemento catalizzatore nella storia, portando nuove dinamiche e tensioni tra i protagonisti. Nella villetta, il clima è denso di emozioni contrastanti. Mentre Gulten mette via gli ultimi oggetti, Sanye non riesce a nascondere la sua delusione per l'atteggiamento di Mujgan. La rapidità della decisione di cacciarla di casa, così poco tempo dopo il matrimonio, le pare inconcepibile. Tuttavia, Gulten, sempre razionale e calma, cerca di vedere il lato positivo della situazione, parlando entusiasticamente della nuova casetta che Cetina ha trovato. Il suo abbraccio rassicurante e la promessa di Sanye e di supporto finanziario sono momenti commoventi, sottolineando la forza dei legami familiari. Alla grande casa, l'atmosfera è frenetica. Mentre Sermin si unisce a loro, porta con sé novità riguardo ai preparativi per l'asta e i rinfreschi per gli ospiti, che sono curiosi di possedere pezzi storici appartenuti alla grande Uncaer. Demir, ascoltando le conversazioni, sottolinea il legato duraturo di sua madre, e come, anche nella morte, continua a fare la differenza a Ciuqurova. Zuleya, con la sua dedizione, rafforza il tema benefico, informando Demir della sua collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'infanzia, evidenziando l'importanza di dare indietro alla comunità. In un altro angolo di Ciuqurova, la billetta si svuota lentamente. Gulten, Cetin, Sanie e Gaffur collaborano nel trasloco, creando una sinfonia di movimento e caos controllato. Ma quando Zuleya cerca di scoprire i dettagli del trasloco da Sanie, quest'ultima, in un raro momento di reticenza, decide di deviare la verità. Desidera evitare ulteriori tensioni e, soprattutto, proteggere Gulten. La scelta di Sanie di omettere la verità potrebbe avere ripercussioni inaspettate nella storia. All'ospedale, Umit irradia gioia e positività. Ogni suo passo sembra leggero, ogni sorriso contagioso. Ed Demir non è da meno. La sua energia positiva si riflette nelle parole gentili rivolte alla sua segretaria. Un comportamento che non sfugge agli occhi attenti dei colleghi. Quando il telefono di Umit squilla, riconosce immediatamente la voce dall'altra parte. Demir, con un tono caloroso, le chiede come stai, con un pizzico di premura, come ha dormito. Non perde tempo nel comunicarle le sue disposizioni. L'idraulico per risolvere il problema del tubo e una donna per rimettere a nuovo la casa. Tutto perché vuole che Umit si senta coccolata e a proprio agio. Umit, toccata dalla sua gentilezza, lo ringrazia. La sua voce trasmette gratitudine, ma c'è anche un timido sottofondo di emozione. La conversazione tra i due si fa più giocosa quando Demir chiede di rivederla. Umit, con un pizzico di sfida e malizia, sottolinea la sua indipendenza, è una donna libera, e lui dovrebbe prendere l'iniziativa se è interessato. Demir risponde all'invito, sottolineando anche lui la propria libertà. Questo scambio di battute e risate svela una crescente complicità tra i due, suggerendo un intreccio sentimentale in evoluzione. Mentre Mujgan è immersa nei suoi doveri lavorativi. La chiamata di Beige porta nuove complicazioni alla sua già frenetica giornata. Le lamentele di Beige sulla loro attuale dimora sono vehementi e appassionate, ma è l'impazienza e l'urgenza di avere una soluzione che rende la conversazione tesa. La minaccia di Beige, così drammatica e radicale, sottolinea la gravità della situazione e la disperazione che prova. Prima che Mujgan possa riprendersi dalla chiamata, Chetim fa la sua comparsa all'ospedale. La sua presenza è silente ma carica di significato. Anche se circondata da colleghi come Aykut e il cugino di Fikret, Mujgan sente la tensione nell'aria quando Chetim si avvicina. La sua azione, il semplice gesto di lasciare le chiavi della villetta sulla sua scrivania, è un messaggio potente. Non ha bisogno di parole per comunicare il suo disagio e la sua decisione di lasciare la villetta a Mujgan. Il fatto che lui se ne vada, nonostante le suppliche di Mujgan, sottolinea il divario crescente tra i due e pone le basi per ulteriori sviluppi e tensioni nella trama. Mentre a Villa Yaman regna l'entusiasmo per l'imminente evento di beneficenza, Sermin e le sue amiche del comitato si concedono un momento di ammirazione per i vestiti di Unkara. I loro commenti non fanno altro che sottolineare la classe e l'eleganza dell'indimenticabile Unkara. Sermin, non perdendo occasione per vantarsi, esprime il suo orgoglio per essere una Yaman e di avere la fiducia di Zuleya. Altrove, Mujgan porta notizie rassicuranti a Bei-Jé. È finalmente giunto il momento di trasferirsi nella villa. Bei-Jé, seppur felice per la novità, non nasconde la sua avversione verso Sanye. Le due donne, con sentimenti contrastanti, raggiungono la villa. L'ingresso in casa, tuttavia, non è quello sperato. Bei-Jé, con il suo carattere esigente, lamenta la grandezza della casa e sottolinea l'urgenza di pulizia a fondo. La tensione tra le due sale, quando il discorso si sposta sui soldi di Yilmaz. Sebbene Mujgan sostenga che Zuleya li detenga, l'ossessione di Bei-Jé la spinge a dubitare e a volerli cercare dappertutto. Inclusa la precedente abitazione di Gulten e Cetin. Ma alla fine, il vero nodo della conversazione emerge. Bei-Jé vede in Zuleya la radice dei loro problemi e avverte Mujgan del pericolo che rappresenta. La preoccupazione di Bei-Jé per il futuro di Care e Mali getta un'ombra sul loro già precario rapporto, suggerendo che la storia prenderà una piega ancora più complicata. Sotto la direzione di Sermin, i preparativi per l'asta verranno completati, con Sermin che funge da ospite e gestore dell'evento. Feikli, vedendo tutti gli oggetti personali di Unkar, il suo amore per 40 anni, troverà la situazione difficile da gestire. La sua emozione toccherà tutti quando acquisterà una sciarpa di Unkar per una somma notevole. Il giorno seguente, l'inizio dei lavori per il campo per bambini sorprenderà tutti a Ciuquroba, segnando un nuovo inizio. Nel frattempo, Zuleya, con la preziosa collaborazione di Sermin, mette in piedi una raccolta fondi per onorare il ricordo di Unkar. La raccolta fondi organizzata da Sermin e Zuleya riscuote un grande successo. L'asta benefica degli abiti della defunta Unkar si svolge nel migliore dei modi possibili. E Zuleya, la nuova signora della tenuta ne è molto felice. Intanto, viene finalmente svelato il mistero sull'eredità scomparsa di Yilmaz, i 30 milioni di lire vengono ritrovati. Zuleya è ormai ufficialmente la nuova signora della villa e amata da tutta la cittadinanza a Ciuquroba. L'Altun si dedica ai più bisognosi anima e corpo, proprio come in precedenza faceva Unkar. Zuleya lascia un terreno all'istituto statale per la protezione dell'infanzia. Qui vengono ritrovate delle taniche piene di soldi. Sono i 30 milioni dell'eredità nascosti dagli Yilmaz. Ecco cari spettatori. Le anticipazioni si concludono con la tensione che cresce riguardo alla questione ereditaria di Yilmaz e con Demir, sempre più coinvolto con Umit. Mentre Zuleya si conferma la degna erede di Unkar, amata e apprezzata da tutti. La trama si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena nelle prossime puntate. Non perdete nulla di questa avvincente storia. Se volete rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie mille per la vostra compagnia e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao a tutti.